Nella puntata di oggi, senza bavaglio, si occupa di aeroporto, dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, delle altre violenze che sta subendo questo aeroporto perché si è data una vocazione industriale, la vocazione cargo, quindi una violenza a quella che poteva essere la destinazione dei voli civili, dei voli passeggeri. Insomma si è deciso che l'Arlotta verrà utilizzato per le varie sperimentazioni aerospaziali, se ci saranno, per i droni, la destinazione cargo, ma e se ci sarà occasione, se ma in maniera molto velata e sfumata, verrà impiegato per i voli civili. Il che ovviamente è assurdo perché stiamo parlando di un territorio ionico che dispone dell'Arlotta, che ricordiamo ha una pista di volo deputata, abilitata ai voli intercontinentali. Cioè, per capirci, è possibile il Grottaglie Taranto New York, proprio perché è un volo intercontinentale, c'è la pista abilitata, cosa che invece non è possibile da Bari o da Brindisi. Quindi il Bari New York e il Brindisi New York non esiste. Il Taranto, Grottaglie, chiamiamolo così, New York, invece sì. Invece però gli scienziati di aeroporti di Puglia e della regione Puglia dicono non hanno fatto nulla e non fanno nulla affinché effettivamente l'Arlotta venga adibito alla destinazione appunto voli civili. Si vuole a tutti i costi la industrializzazione dell'area ionica. Non ci bastava il cancro dell'Ilva, il cancro dell'Eni. Ora anche quelle possibilità di sviluppo turistico, che appunto si realizzano queste possibilità attraverso i voli civili, questo sviluppo ci viene precluso, ci viene negato. Ma consideriamo le occasioni perse, il tanto fumo che si è fatto per l'Arlotta e poi i risultati non ci sono. 21 marzo 2007 è la data in cui atterrò il primo volo Boeing 747 per imbarcare le prime fusoliere in fibra di carbonio prodotte in alenia. Vocazione industriale 2007, quindi arriva il volo Boeing, prende queste fusoliere prodotte in alenia e se le porta. 2007-2017, sono 10 anni. Lo stabilimento Leonardo in 10 anni, il stabilimento Leonardo ex alenia composite alenia airmacchi, ha realizzato appunto le sezioni 44 e 46 nelle due configurazioni per i Boeing 787-8 e 787-9 e ci sono stati appunto per trasportare tutte queste, quanto è stato prodotto, lo diciamo in termini molto concreti, molto poveri, a beneficio del telespettatore, ci sono stati 520 voli cargo che hanno appunto questi voli caricato, quanto prodotto a livello di fusoliere e ovviamente portate a destinazione. e altri 700 voli cargo sarebbero in programma. Per capirci, attraverso l'arlotta, attraverso la destinazione cargo, queste fusoliere, questi pezzi, diciamolo volgarmente, di aerei, vengono prodotti in alenia o appunto nello stabilimento Leonardo in generale e quindi poi vengono portati via. Allora, vedete, funzione assolutamente industriale, voli civili zero. Già questo ci fa capire che il territorio ionico viene usato per produrre roba industriale, come con l'Ilva. Va bene, uno dice, va bene. Ma c'è stata qualche ricaduta almeno? Poco nulla, anzi nulla. Perché i voli passeggeri non ci sono stati, sono stati preclusi. E inoltre, registriamo che in questi dieci anni non si è insediata alcuna attività produttiva dell'indotto alenia. Quindi anche a livello di insediamento, di creazione di nuove attività produttive dell'indotto alenia, zero assoluto. Quindi a questo punto è una produzione fine a se stessa, che non ha avuto ricadute per il territorio ionico nell'arco dei dieci anni. Altra domanda. Quanto è stato reinvestito sull'arlotta da aeroporti di Puglia relativamente ai ricavi dell'attività cargo? Questa è un'altra domanda che ci poniamo. Cioè l'attività cargo ha prodotto dei ricavi per aeroporti di Puglia, ma aeroporti di Puglia di fatto di questi ricavi non ha investito nulla per l'arlotta o comunque ha investito molto poco. Ce lo domandiamo. Ci piacerebbe saperlo, perché per quel che mi consta poco o nulla è stato reinvestito, ma vorremmo saperlo da aeroporti di Puglia. Alla fine noi non vediamo nulla e quindi evidentemente poco o nulla è stato reinvestito. Per non parlare poi che tre anni fa circa si parlò di uno sviluppo per il test bread, che bei paroloni, ossia per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione dei droni grandi e piccoli e per le attività aerospaziali. Ma sinceramente non si è visto questo sviluppo tanto ventilato e tanto strombazzato. Sinceramente dei droni piccoli o grandi e delle attività aerospaziali a noi, sinceramente i cittadini di Taranto, non friga assolutamente nulla. A noi interessano i voli civili, perché noi dobbiamo fare turismo, perché noi dobbiamo promuovere il territorio. Questa produzione industriale riguarda gli interessi superiori delle aziende che operano, anche degli interessi statali. Ma sinceramente a noi che vogliamo vivere di turismo, che vogliamo rilanciare il territorio, come possiamo rilanciarlo se cavolo ci impediscono i voli civili? E ancora, tutti questi sforzi, questi sacrifici per la destinazione industriale dell'Arlotta e poi notiamo che Boeing taglia la spesa e Leonardo, lo abbiamo detto cos'è Leonardo, lo stabilimento Leonardo, ex Alenia Composite e Alenia Aermacchi, udite udite, non conferma tutti i contratti con le aziende dell'indotto, cioè Leonardo attraverso l'Arlotta si arricchisce, fa tra virgolette i comodi propri, perché ovviamente in un territorio in cui relativamente ad una struttura, ad un aeroporto per cui può tranquillamente sfruttare la destinazione cargo, però poi alla fine quelle aziende dell'indotto che potevano vivere grazie a Leonardo attraverso i vari contratti, questi contratti non vengono più, buona parte di questi contratti non vengono più prorogati, non vengono più confermati. Uno si pone questa domanda, ma alla fine della giostra, a livello occupazionale Leonardo fa i fatti suoi, massimizza il profitto con ricaduta zero per il territorio, chi poteva guadagnare qualche posto di lavoro con Leonardo ora non lo ha più, lo perde, e la destinazione dei voli civili, dei voli passeggeri oramai è un sogno o comunque un'ipotesi molto relativa. Signori, ma l'Arlotta a cosa serve? La pista dell'Arlotta deputata ai voli intercontinentali a cosa serve? Altrimenti facciamo prima, chiudiamo Baracca e Burrattini e anziché sull'Arlotta, nell'Arlotta, anziché la pista di volo, adibiamola magari ad una pista da ballo, forse avrebbe una valenza, un significato maggiore. La verità è che noi non vogliamo essere presi per il culo, passatemi l'espressione, per quanto riguarda l'Arlotta, né da Emiliano, né da Aeroporti di Puglia e né da Leonardo. Leonardo non è l'artista polivalente, ma ci riferiamo allo stabilimento Leonardo ex Alenia Composite e Alenia Airmacchi, che evidentemente, come vi ho detto, poco o nulla fa per incrementare le unità lavorative nell'ambito dell'indotto. Signori cari, l'aeroporto Arlotta di Grottaglia, evidentemente, rappresenta una mammella a cui si attaccano solo pochi. Questa mammella deve dare latte per tutti e questo latte per i tarantini soprattutto si chiama possibilità di voli civili, di voli, di voli, passeggeri. Senza Bavaglio, senza Bavaglio vuole volare e vuole volare all'Arlotta di Grottaglia. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre!